Buongiorno, si vuole presentare e dirci di cosa si occupa? Mi chiamo Giuseppe Massarotti, sono responsabile italiano del programma Fast Start per SAP Italia. Oggi è tenuto un workshop, di cosa ha parlato? Ho parlato del programma SAP Fast Start, la soluzione gestionale pronta all'uso per le piccole e medie imprese italiane. Sicura, perché ha tempi e costi certi, configurabile, la disegni scegliendo quello che vuoi, quindi usi e paghi solo quello che ti serve. Completa, perché include software, hardware e implementazione. Che consiglio darebbe alle piccole e medie imprese in questo momento? Alle piccole e medie imprese italiane che vogliono investire nel loro futuro, consiglio di pensare da grandi, attraverso un sistema gestionale in grado di accompagnarli nell'evoluzione del business e di crescere con loro, scegliendo la soluzione SAP Fast Start. Grazie per essere passato qui. Grazie.